Ancora un dramma della solitudine a Pesaro dove una donna di 61 anni di nome Margherita è stata trovata morte in casa dopo un mese a lanciare l'allarme un inquilino della palazzina di proprietà della donna che ha deciso di bussare alla sua porta senza però ricevere risposta. A quel punto l'uomo preoccupato, dato che era un po' che non la vedeva, ha chiamato i carabinieri che hanno purtroppo trovato il corpo della donna mummificato. Sul comodino in camera sono stati trovati dei farmaci utilizzati accanto a scatole vuote che fanno ipotizzare a un'overdose. Secondo una prima ricostruzione la donna dopo la morte della madre avvenuta alcuni mesi fa usciva molto poco. Grazie per la visione!